La Lions Teramo torna alla vittoria affondando Modena in casa e aggancia Cingoli al quarto posto in una terza giornata di ritorno di Serie 1 maschile di palla a mano che ha regalato nei piani alti della classifica la sorprendente di partita di Padova, superato in casa dal Carpi, prossimo avversario dei leoncini terramani. Al palla Giorgio Binchi, Teramo che veniva da due sconfitte consecutive regola Pantarei-Modena 24-16 avendo sempre il pallino del gioco in mano. Gara che però è stata a dispetto del punteggio molto combattuta e che la squadra di Marcello Fonti ha chiuso solamente della seconda parte della ripresa anche grazie agli errori degli Emiliani e anche alle strepitose performance tra i pali di Colle Vecchio e Pierluigi di Marcello. Ottimo l'impatto sulla gara del neocquisto brasiliano De Oliveira da Silva, autore di Ben Sette Reti. A fine gara risulterà il miglior realizzatore in casacca bianco-rossa al pari di Pier Agostino ma soprattutto l'atleta carioca ha portato maggiore fisicità in difesa ed è quello che mancava ai ragazzi di Marcello Fonti. Buono subito l'approccio dei bianco-rossi alla gara, 2-0 dopo 3 minuti e mezzo con il primo gol di Oliveira con la marcatura di capitano Andrea Di Marcello arriva il più 3, 6-3 per la Lions. Ma sugli scudi salgono, dicevamo, anche i due portieri di casa con Colle Vecchio e Di Marcello con quest'ultimo che neutralizza anche due rigori. La squadra del presidente Salvatore Faragalli va al 10-9 al riposo. Nella ripresa inizia ancora vehemente De Teramani che al quinto minuto comandano 13-9. Gli errori di Modena, soprattutto i rigori, lanciano i padroni di casa trascinati da due reti di fila di Valeri, 20-16 al 22esimo. Con il calo fisico da parte degli ospiti i bianco-rossi ne approfittano per allungare e con il passare dei minuti aumentano il vantaggio fino al 24-16 conclusivo che va ad incorniciare una gara perfetta da parte di Giampietro e compagni. Sabato per la quarta giornata di ritorno si tornerà a giocare in trasferta in terra emiliana con un avversario, il Terracchiglia Carpi, da prendere con le pinze, specie dopo l'impresa in casa del Padova. Questa è la seconda vittoria del campionato per i ragazzi di Illich che lasciano così l'ultimo posto in graduatoria approfittando del turno di riposo del Romagna Handball.